Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. Il flusso caldo-umido si intensificherà proprio nella giornata odierna. Il sud sarà investito da aria molto calda e umida, ma anche da nuvolosità sparsa tipica dei fronti caldi. Le regioni settentrionali invece avranno a che fare con nubi più compatte e saranno possibili anche dei rovesci sull'arco alpino. Si tratterà dell'episodio più caldo stagionale fino a questo momento e le temperature su alcune zone del meridione potranno superare anche i 30 gradi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 12 maggio. Al primissimo mattino possibilità di deboli piovaschi sui settori ionici e sul brindisino, ma risulteranno in veloce dissolvimento. Altrove cielo sereno, poco nuvoloso. Durante le ore pomeridiane nuvolosità in aumento sulla Basilicata, ma senza fenomeni di rilievo. Bello sul Foggiano, altrove con nubi alte in transito che occasionalmente potranno oscurare i cili. In serata, nuvolosità alta più compatta, quasi ovunque, ma senza fenomeni. Come notiamo dalla grafica, le temperature risulteranno in ulteriore aumento, con punte massime prossime ai 30 gradi e locali sconfinamenti su Tavogliere, Bat e Lucania occidentale. Venti che al mattino soffieranno ancora moderati di scirocco sulla Puglia centro-meridionale, con indebolimento e rotazione da ponente a metà giornata. Mari, Ionio e Canale d'Otranto mossi, poco mosso invece all'Adriatico. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Emanuele Foscarini per questo magico scorcio sulla bellissima Castro in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle email che vedete in sovra impressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie.